Buon pomeriggio, vi ritrovati, la vedete, dietro di me la torre, simbolo di questa città, Pisa. E anche quest'oggi ve la racconteremo scegliendo percorsi diversi, oltre le consuete mete turistiche, con cose, persone, esperienze, sicuramente fuori dall'ordinario. Mi aiuterà in questo viaggio il mio scouter locale, lui si chiama Giuseppe Pagano, intanto però partiamo, Urban Scouter, sigla! Antica Repubblica Marinara, città d'acqua, allora quale modo migliore di cominciare la nostra gita se non in barca? Comandante, buongiorno! Buongiorno Elisa! Mi concede il permesso di salire a bordo? Permesso accordato, prego! Olè! Capitano Gustavo Elmi, detto cecio, allora tu oggi mi porti a visitare Pisa, non per mare, non per terra, ma attraverso il fiume. Qui siamo, se non mi sbaglio, nel Molo Roncione, a nord dell'Arno, dico bene? Sì, dici benissimo, e viseremo la città dal fiume, che ha una visuale diversa, bellissima, e vedremo più dei palazzi della città. Come Palazzo Blu, la Torre Guelfa, c'è tantissimo da vedere da qui. C'è tantissimo da vedere, andiamo? Andiamo! Senti, io di solito guido il monopattino, porto questo? Certo, ti insegno io. No, no, meglio se guidi tu, dai, meglio, meglio. Senti, io qui ho voglia di chiederti veramente tutto, perché vedo dei palazzi... Bellissimi! Sì, bellissimi, con stili diversi, tra l'altro, quindi le varie dominazioni che ci sono state. Ecco, questo palazzo qui, questo marrone, che cos'è? Questo è in terra cotta, è un palazzo bellissimo, medievale, e facci caso, prende anch'esso, vedi? Perché Pisa, non solo la Torre, ma tanti edifici prendono, per il via che Pisa è stata levata alle acque. Cecio, perché lì c'è un giardino e non un palazzo? Eh, brava, bella domanda, perché lì aveva la casa, la rimora, il Conte Golino, sai che il Conte Golino, ne parla anche Dante, tradisce Pisa per Genova nella battaglia delle Melorie, Pisa lo condanna a morte, Dante dice che mangia la testa dei figli, no? E li brucia la casa, sparge il sale e dice che ma nessuno lì ci potrà costruire. Ma quante cose fai? Allora a questo punto... Ormai, è un po' che giro. Lupo di mare o lupo di fiume? Ma ormai di fiume, ormai di fiume, ormai di fiume. Proprio da qui, da questa prospettiva, io noto dei particolari, delle decorazioni poste sui terrazzi. Che cosa rappresentano? Perché molte sono le abitazioni con queste cose. Certo, perché noi festeggiamo il 17, il nostro patrono che è Saranieri, e il 16 giugno facciamo l'alluminaria. Perciò tutte queste decorazioni, la notte del 16, sono illuminate da candele. La città è bellissima. Cecio, durante questo percorso mi sono accorta di alcune barchette colorate. Prima ce n'era una blu, ora quella verde. Ma che cosa sono? Allora, queste barche colorate sono le barche dei quattro quartieri storici di Pisa. Queste barche si sfidano il 17 di giugno in un palio remiero, proprio in onore del nostro patrono Saranieri. Adesso però noi ci stiamo spostando verso fuori, man mano. Noi stiamo sempre uscendo verso ovest, stiamo praticamente in direzione mare. Infatti i palazzi, pian piano, sono sempre di meno e ci avviciniamo verso la natura, verso questo parco meraviglioso. E noi ci dirigiamo al parco di San Rossore. E che cosa c'è al parco di San Rossore? Eh, ora vediamo, dopo te lo spiego. Avviciniamoci. Però so che ci sono i dromedari. È vero, ora vedrai. Sono curiosa perché i dromedari a Pisa. Li andremo a vedere via Fiume. Va bene, va bene. Allora, Cecio, chi volesse venire a fare un giro sul tuo battello, cosa deve fare? Ma si deve rivolgere al centro visita di San Rossore, qui della tenuta, che oltre al battello organizza gite e visite per tutto il parco. E allora, per chi ci sta seguendo da casa, segnate www.parcodelrossore.org per poter organizzare una visita. Grazie per avermi fatto scoprire Pisa attraverso una prospettiva completamente diversa. Scendo dal battello, prendo il monopattino e lascio la parola a Giuseppe, il mio scouter locale, che vi offre un caffè storico letterario, oserei dire. Mi piace pensare che tra questi tavolini si siano sedute personalità e artisti del calibro di leopardi, mazzini, scillei, perché siamo al caffè dell'Ussero ed è il caffè più antico di Pisa, ma anche uno dei più antichi d'Italia. Ma non siamo solo qui per parlare di storia o di letteratura, ma anche per occuparci di cinema. Infatti, questa è una delle prime sale in cui si è realizzata la magia dell'incontro tra il cinema e il sonoro. Ciao Pierpaolo! Ciao Giuseppe, benvenuto! Sì, a proposito proprio di quello che stavi dicendo, il cinema Pisa è una storia antichissima, che parte proprio dai primi del Novecento. Perché proprio i caffè furono scelti come luogo di proiezione? Ma diciamo che è stato un processo abbastanza naturale, in quanto alcuni caffè, soprattutto quelli frequentati da un'elite culturale delle varie città, erano i luoghi più adatti anche ad attrarre tutto quello che era l'innovazione, l'innovazione dell'epoca, tutte le nuove tecnologie disponibili. Quindi è stato un, diciamo, un meccanismo che si è creato da solo. Se vieni con me, ti spiego meglio come si è evoluto questo spazio. Ecco Giuseppe, questa è l'insegna del cinema Lumiere. Ma un tempo questo era un giardino, alla sinistra del palazzo che ospita il Caffè del Lusso. Quindi questa scelta di utilizzare il grande giardino del palazzo è stata conseguente al fatto che a un certo punto il cinema non era più un fenomeno di nicchia, ma era diventato un fenomeno esteso alla popolazione. Quindi era necessario trovare una sala più capiente che potesse ospitare tutti quelli che volevano assistere alle proiezioni. Sinora abbiamo parlato dell'evoluzione delle sale cinematografiche, quindi dove avveniano le proiezioni. Però io sono curioso di conoscere dove è avvenuta la magia dell'incontro tra le immagini in movimento, quindi il cinema, e il sonoro, che accadde nel 1906. Esatto, ma per questo ho una piccola chicca, anzi una grande chicca da mostrare. Ma dobbiamo ritornare all'interno del Caffè del Lusso. Vieni Giuseppe, allora, dentro questa scatoletta si nasconde un segreto. E come si chiama questo oggetto qua? Questo oggetto si chiama isosincronizzatore, era un apparecchio delle meraviglie, era quello che permetteva di sincronizzare un proiettore cinematografico con un grafofono, che era quello che leggeva questi dischi, queste lacche all'epoca. Attraverso appunto questo meccanismo si aveva la sensazione che la pellicola fosse sonorizzata. In realtà non era una vera e propria sonorizzazione che si è avuta solamente più tardi, quando si è messo la traccia all'interno della pellicola. Ma l'effetto che si aveva sul pubblico era esattamente lo stesso. Quali erano i film, insomma le pellicole che venivano proiettate in quel momento? Eh beh, questa è una cosa molto interessante perché erano un po' come gli antenati dei nostri videoclip, erano aria ed opera dove appunto si aveva la sensazione che il cantante stesse proprio cantando, perché si sentiva la sua voce, si sentiva l'orchestra e quindi al pubblico questo aveva un effetto strabiliante, pensiamo se eravamo nel 1906. Ti ringrazio Pierpaolo per averci resi partecipi di questi segreti del primo cinema qui a Pisa e di tutto ciò che ci sta dietro e di quello che hanno ospitato queste sale, quindi invitiamo chi viene a Pisa, ma anche i pisani stessi, a avvicinarsi a questa storia qua. Un po' di questi segreti poi noi li andremo a raccontare anche alla nostra Elisa. Grazie ancora. Grazie a voi, è stato un grande piacere. Grazie a tutti. Sono tante le opere artistiche presenti a Pisa, ci sono Palazzi, la torre che è famosissima, ma noi di Urban Scouters non potevamo non farvi vedere una cosa. Allora, quella dietro di me è la chiesa di Santa Antonia Bate, noi non ve la mostreremo, non perché manchi di importanza architettonica, anzi, però su una delle sue facciate c'è una sorpresa incredibile. Andiamola a scoprire. Anche se la popolarità di chi ha dipinto questo murales credo sia ben nota a tutti, noi ve lo diciamo comunque, si tratta di Kittering, esponente internazionale della pop art, grande artista poliedrico e per capire come abbia fatto ad arrivare fin qui, ce lo facciamo raccontare da Andrea De Gioia. Andrea, ciao, come va? Beh. Allora, come mai Kittering è venuto proprio qui, a Pisa, a dipingere questo murales? Kittering a Pisa lo dobbiamo fondamentalmente a due persone, Pier Giorgio e Roberto Castellani, che lo incontrarono casualmente al Village nel 1988 e nacque immediatamente un'amicizia fra loro, dalla quale poi nacque l'idea, che è stata di Pier Giorgio, di portarlo a dipingere questa parete a Pisa. Ma quanto tempo c'è voluto per dipingere un murales non solo così grande, ma anche così colorato? Cinque giorni, in due giorni, due giorni e mezzo lui ha fatto tutti i disegni in nero e nel restante tempo, altri due giorni, tre giorni, ha fatto il colore. Per il colore si è fatto aiutare da una serie di ragazzi che erano a corsi qui da tutta Italia. Quanti ragazzi più o meno? Erano una decina. Però ti considera che durante i cinque giorni di costruzione del murale, qui c'era una stazione di Pullman, di autobus, e qui praticamente ci fu un happening, un evento. Kittering lavorava con la musica ad alto volume, c'era una grande radio, e con la sua musica, che era in gran parte hip-hop, qui c'erano breakdancers e tutta una serie di ragazzi che giocavano. Quindi era uno spettacolo continuo, era una performance continua, magari con lui che dipingeva. Esatto, è stata una performance continua. Quest'opera rappresenta 30 figure che si uniscono, tutte concatenate, simboleggia la pace, l'amore, si chiama tutto mondo. E tra l'altro so che tu sei stato l'artefice di questo titolo. No, in effetti nel documentario che io ho prodotto, la regia di Andrea Soldani, una delle ultime domande che sono state fatte a Ehring fu appunto se lui aveva pensato a un titolo per quest'opera. Stette un attimo così a pensare, dice All the World, e poi in italiano disse Tutto Mondo. E da lì è rimasto il titolo Tutto Mondo. Senti, c'è un elemento che mi incuriosisce, una croce gialla proprio in mezzo. Sai perché? Allora, il rapporto, una delle cose bellissime fu il rapporto che nacque fra Ehring e i frati. E non era scontato che fosse così libero di dipingere la parete di una chiesa. Invece i frati si sono dimostrati da subito, collaborativi, e non hanno voluto nemmeno vedere un bozzetto. Di fatto il bozzetto non è mai esistito. Lui ha dipinto tutto a occhio, senza nessun bozzetto. Andrea, ti ringrazio perché ci hai raccontato bene quest'opera e quando qualcuno te la spiega la percezione è sempre diversa. E soprattutto quello che mi ha colpito è stata questa storia di amicizia che ha portato Keith Ehring qui. Voi che ci state seguendo in questo momento non potete mancare qui perché è un posto veramente bellissimo che merita una visita. Ma ci sono tante altre cose da raccontare a Pisa e lo farà adesso il mio scouter locale, Giuseppe. Non tutti sanno che a Pisa c'è una tradizione che affonda le sue origini nel Medioevo per quanto riguarda la produzione della ceramica. Tanti pensano a Grottaglie, pensano a Cattagirone ma anche Pisa da quando era una repubblica marinara porta avanti questa tradizione che poi si è diffusa in tutta Europa. Esiste ancora un posto dove questa tradizione viene rivisitata in chiave moderna e vengono create dei veri e propri pezzi d'arte molto contemporanei. È arrivato il momento di andarla a scoprire insieme. Buongiorno! Ciao Giuseppe, buongiorno! Ciao Eleana, come stai? Bene, bene! Che bello qui! Poi che tipo di lavoro fate? Cerchiamo di mandare avanti la tradizione come dicevi tu che c'era a Pisa. Abbiamo intanto questo spazio disponitivo dove invitiamo artisti a disporre le loro creazioni con le loro varie tecniche e poi abbiamo un bellissimo laboratorio. E anche persone comuni come me possono mettere le mani in pasta? Sicuramente, soprattutto persone comuni. Vediamo dove si svolge questo lavoro manuale. Certamente, guarda! Ecco il laboratorio. Qui è veramente il nocciolo, il cuore dell'associazione. Perché, come ti dicevo prima, volevamo far conoscere la ceramica visivamente, però anche praticamente. E qui, come vedi, abbiamo due corsisti, due ragazze giovani, per fortuna, che manderanno, spero, avanti questa tradizione, che si stanno cimentando con il colombino, che vedi che è una tecnica di ceramica per fare un vaso. E che tipo di lavorazione seguirà dopo questa fase qua? Intanto si modella il pezzo e, come vedi, è abbastanza rustico. Dopo interviene la prima cottura, che si chiama il biscotto. Quindi la fase di colorazione avviene dopo la cottura? Esatto. Dopo la prima cottura, dunque, dopo il biscotto. Ma guarda, te lo faccio vedere in modo didattico. Allora, si parte dal biscotto, come ho detto prima. Poi avviene la smaltatura, quindi questo strato di rivestimento vetroso, che poi dopo la cattura diventa lucido e impermeabile. Però prima si effettua la decorazione a pennello. Ho usato la tecnica che usavano anticamente per fare i bacini, che sono in diverse chiese di Pisa, come hai potuto vedere. Sì, è un vaso che era nato per motivi alimentari, ma che poi è stato utilizzato come decorazione in diverse chiese. Per chi volesse partecipare ai vostri corsi, alle vostre attività, come si può mettere in contatto con voi? Allora, troveranno tutte le informazioni sul nostro sito, che è www.cobaltoart.com Grazie mille Eliana per averci fatto scoprire i segreti di quest'arte e averci aperto le porte del tuo laboratorio. Sicuramente torneremo a trovarti, ad apprezzare questi oggetti d'arte. Andiamo a scoprire adesso con Elisa la città di Pisa da un altro punto di vista. Grazie mille Ciao Raffaele! Ciao Elisa, benvenuta alle antiche mura di Pisa. Grazie, allora sei pronto per questa passeggiata? Raccontami un po' di questo posto. Certo, queste sono mura medievali e sono state realizzate dal 1154, quando Pisa era una grande repubblica marinara. Pensa che è una delle cinque murarie meglio conservate d'Italia e forse d'Europa e circondavano un'area di due chilometri quadrati. Fu una grandissima espansione urbanistica di una città che si stava veramente sviluppando. Ah wow, il Battistero proprio in tutta la sua grandezza e bellezza. Grandezza soprattutto perché è uno dei più grandi del mondo. Sì, è vero, è uno dei più grandi del mondo, è alto più di 50 metri ed ha un diametro di più di 100 metri ed è molto bello anche perché è uno strumento armonico, una cassa di risonanza. Senti, c'è una particolarità. Ci sono due statue, una somiglia a Mazzini e un'altra a Garibaldi. Sì, questa è una storia curiosa, una quasi leggenda. Si dice appunto che cosa è successo? A fine 800 il vescovo di allora avesse voluto far rifare le statue che stavano sul Battistero. Però ha commissionato questa opera di scultori che notoriamente erano anarchici e così gli hanno fatto un piccolo scherzo e gli hanno messo una statua di Mazzini, una di Garibaldi ed sono state messe sul Battistero e ora si possono vedere e si vedono bene solo dall'alto delle mura. Beh, hanno fatto uno scherzetto quindi, hanno voluto fare uno scherzetto. Allora, qui abbiamo il Duomo, quindi è chiamata sia Piazza Duomo questa, sia Piazza dei Miracoli. Ma perché ha due nomi questo posto? Me lo spieghi? Sì, allora i pisani ci tengono a chiamarla Piazza del Duomo. Però è conosciuta in tutto il mondo come Piazza dei Miracoli. Perché? Perché quando venne d'annunzio a Pisa, venne in questa piazza e vide questi miracoli architettonici e quindi ribattezzò la piazza Piazza dei Miracoli. Raffaele, devo dire una passeggiata bella impegnativa quella che mi stai facendo fare perché questo camminamento è lunghissimo. Mi vuoi dire quant'è esattamente? Sì, questo camminamento sono tre chilometri e mezzo. Passando per alcuni angoli caratteristici della città, alcuni conosciuti, altri invece tutti da scoprire. E tra l'altro ci sono delle fermate intermedie. Ecco, chi ci sta guardando in questo momento da casa per venire qui, che cosa deve fare? Basta andare sul nostro sito, è molto semplice il nostro sito www.muradipisa.it o può anche scaricare la nostra app, app Mura di Pisa. E tra l'altro sull'app è possibile anche scoprire, ci sono delle informazioni su tutti i monumenti che si vedono dalle Mura di Pisa. Quindi è anche uno strumento utile poi per chi viene a fare la passeggiata. Grazie perché ho visto in questo modo Pisa dall'alto e veramente mi mancava. Io magari continuo a fare una passeggiata per fare delle foto da postare sul nostro Instagram, quello di Urban Scouter. Anzi, seguiteci anche voi e poi vado dal mio scouter locale perché mi ha invitata ad assaggiare un dolcetto buonissimo. Eccoci Giuseppe, ciao! Ciao Elisa, ben arrivata! Come stai? Bene, te? Bene, bene, soddisfatta perché ho visto posti bellissimi. E immagino sarai anche un po' stanca dopo aver viaggiato sopra le mura medievali, aver visto anche il Panmurales di Kettering. Ho fame! Ah, avrai fame, immaginavo. Ho fame soprattutto. Questo devi sapere che è il momento topico di Urban Scouter's perché purtroppo dobbiamo condividere con la nostra truppa che non mangia da giorni. No, non è vero, scherzo. E questa roba che mi farai assaggiare tra poco, questo dolce? E io ti faccio assaggiare il pezzo forte della pasticceria pisana che è la torta con i bischeri. Bischeri ha un significato ambiguo. È vero perché magari qualcuno l'associa al modo di dire, sai che si dice te i troscani, ah ma tu sei un bischero. In realtà quella è una storia diversa, una storia fiorentina. Questa invece è una storia pisana che risale al 1200, questo è un dolce antichissimo, proprio qui vicino a Pisa, a Ponta Serchio. Ed è una torta che deve il suo nome dei bischeri dalla lavorazione che vedi qui sul bordo, che ricorda quasi una merlatura. Questi sono i bischeri? Esatto, esatto. Ok, e questa è la fetta di torta che pesa un chilo per la gioia della nostra troupe perché come ti dicevo la dobbiamo purtroppo condividere con loro. Quindi ragazzi posate queste telecamere e venite ad assaggiare perché ce n'è veramente per tutti e fa un profumo incredibile. Prima però facciamo una bella storia. Eccoci. Ole, ciao, qui c'è la torta, ciao.